D'Alessandro, l'Abruzzo sarà al meeting di Rimini con un occhio all'Expo di Milano, è il caso di dire. Esattamente questo è l'obiettivo, noi abbiamo un'ambizione al 2015 all'Expo di Milano non di essere presenti ma di meravigliare il mondo, il mondo che non conosce la nostra regione se non in minima parte, in minima percentuale. Noi abbiamo questa grande obiezione e Rimini oggi rappresenta una tappa, un passo verso l'Expo 2015. Trasporti e turismo, due binari che sono destinati ad incontrarsi? Per 44 anni della storia della nostra regione non si è mai ritenuto che le politiche turistiche fossero di fatto politiche trasportistiche o il contrario. Oggi il Presidente D'Alfonso trattiene a sé la delega dei trasporti e del turismo, molti si sono chiesti perché, oggi si riesce a capire perché. Perché se noi rendiamo un sistema della mobilità interno dove è facile raggiungere i luoghi della nostra regione e soprattutto colleghiamo i fatti e gli eventi che accadono fuori nella nostra regione in Abruzzo per portare ciò che accade fuori qui, noi riusciamo a far conoscere la nostra regione. La nostra regione non è conosciuta non soltanto perché non è promossa ma perché non è raggiunta e non è facilmente raggiungibile. Grazie.